L'appuntamento è per mercoledì 6 settembre alle 20 quando 2024 pizze rossini verranno servite ad altrettanti commensali che in meno di 48 ore hanno polverizzato con grande anticipo 2024 coupon per altrettante pizze gratuite. Il ristorante per l'occasione sarà quello all'aperto di Viale della Repubblica con 4 maxi tavolate apparecchiate fra mare centro a comporre i 4 numeri del 2024 volte a creare una cartolina di finestate verso l'anno di Capitale della Cultura. Abbiamo deciso da anni di valorizzare la Rossini, quest'anno l'idea è quella appunto di una mega tavolata che formerà il 2024 l'anno della Capitale della Cultura ma non ci immaginavamo che nel giro di due mattinate tutti i ticket finissero. E quindi già 2024 prenotazioni sono arrivate però abbiamo deciso di interpretare questa voglia di partecipare con un programma più ampio e quindi ci sarà alle 10 la possibilità per tutti di partecipare alla foto di gruppo notturna con la torcia del cellulare e poi ad un brindisi collettivo che si farà anche con coloro che non sono a cena che magari saranno andati a mangiare nei ristoranti, avranno preso la pizza da sport o semplicemente avranno mangiato a casa e verranno nel dopo cena. E quindi oltre le 2024 persone l'evento è aperto a tutti coloro che vorranno per un brindisi, per una foto collettiva che diventa la cartolina che spediremo in questo bellissimo settembre che si è aperto verso la Capitale della Cultura. Un'organizzazione della festa che ha riscosso l'ok di quasi 40 pizzerie cittadine che cucineranno le 2024 porzioni che saranno servite non stop dai Corrieri di Urbico. È stato studiato l'evento proprio un mercoledì anche per andare incontro alle pizzerie e non metterle in difficoltà perché poi sabato e domenica sappiamo che tutti esce a mangiare una pizza e quindi siamo contenti già della partecipazione da parte delle attività commerciali. Di questo abbiamo visto una risposta anche abbastanza veloce e speriamo che la serata vada bene, è la prima volta, quindi magari non si mangerà la pizza caldissima, però è un modo per stare insieme. Abbiamo visto anche da parte dei cittadini la voglia di partecipare perché nel giro di due giorni 2.000 tagliandini subito dati via hanno avuto un buon successo. Quindi ci vediamo il 6 settembre e speriamo che vada tutto bene e che venga fuori un bel lancio per il prossimo anno Pesaro Capitale della Cultura 2024.